A Cervinara il sindaco dovrebbe prorogare le misure adottate con l'ordinanza dello scorso martedì, scuole, chiuse, sospensione del mercato e divieto di assembramento nelle piazze e nei locali pubblici. Sono riprese invece ieri le funzioni religiose, dopo che in seguito alla positività di alcuni parrocchiani i sacerdoti avevano chiuso le chiese per la sanificazione dei locali. Intanto ieri a Cervinara si è svolto uno dei primi drive-in, altri due saranno effettuati in settimana, così come richiesto dal sindaco. Dal 21 ottobre ad oggi a Cervinara si registra un notevole incremento di positivi, destinati purtroppo ancora a crescere. In paese si dovrebbe arrivare a un centinaio di contagiati, ma a Cervinara in questi ultimi giorni c'è qualcosa che aumenta insieme a positivi ed è il clima di rabbia, una caccia ai colpevoli che sta facendo registrare tensioni che in un momento del genere sarebbe meglio evitare. Le mamme, la dirigente scolastica risentite per le dichiarazioni della manager dell'AS di Avellino, la nota di De Luca dove il governatore parla di una festa a scuola e rettifica dopo alcune ore e per ultimo anche le accuse alla chiesa e qui interviene con una lettera il parroco Don Renato Trapani che chiede alla comunità di far fronte comune per l'emergenza covid. Certo, precisa, ci sono stati comportamenti non adeguati. Io stesso sono stato superficiale nell'autorizzare una festa di compleanno nei locali di San Marciano. Di questo sono profondamente dispiaciuto e chiedo scusa a tutti, nessuno aveva intenzione di fare del male a nessuno. Sono addolorato, scrive ancora il parroco, nel vedere la comunità cervinaresa così divisa e invito tutti alla riconciliazione, ad essere attenti alle facili conclusioni e condanne. La stessa comunità che sono chiamata a guidare è fatta oggetto di accuse totalmente false. Che attacchino me passi, continua ancora Don Renato, ma crocifiggere dei giovani che prestano il loro servizio con passione gratuitamente non lo consento a nessuno. Si tratta di cattiveri e vili, l'ultima maliziosa fandonia che avrebbero organizzato il 31 ottobre la festa di Halloween, da cui è partito il contagio di tutta Cervinara. Sarebbe stato mai possibile autorizzare la festa di Halloween nei locali di una parrocchia? Le calugne inventatele, più credibili. Se stiamo tutti contro tutti, ne ricaveremo solo male per tutti. Con affetto, Don Renato.